Una delle ultime parti, degli ultimi discorsi che possiamo affrontare è quello di vedere se esistono altre distribuzioni oltre alla Gumbel che abbiamo analizzato. Tutti gli elementi che noi abbiamo considerato sono ripetibili nel senso che qualsiasi sia la distribuzione le regole di adattamento dei parametri, i metodi dei momenti della massima verosimilianza, dei minimi quadrati sono applicabili esattamente allo stesso modo. Così pure il test di Pearson e così pure i ragionamenti che abbiamo fatto sul chi quadro rimangono validi. Ci domandiamo qui se si possono generalizzare le condizioni, in particolare se esistono altre distribuzioni che possiamo applicare. Gli stessi teoremi, le stesse questioni che portano alla distribuzione di Gumbel portano in realtà ad altre due distribuzioni. Come qui vedete rappresentata la distribuzione di Gumbel, doppio esponenziale con i coefficienti A e B scritti in modo invertito, ma non importa. C'è un'altra distribuzione che è una distribuzione dei massimi che si chiama distribuzione di Fréchet. Questa distribuzione è limitata inferiormente. Allora una cosa interessante sarebbe poter dire ma utilizziamo la distribuzione di Fréchet perché le precipitazioni sicuramente sono limitate inferiormente a zero. Non ci possono essere precipitazioni negative. Tuttavia, come forse vi ho anche già detto prima, le distribuzioni possono essere anche semplicemente degli approssimanti dei valori reali. La distribuzione di Gumbel di per sé ammette anche valori negativi, però questi valori negativi sono così poco probabili che non hanno praticamente nessun significato reale nei nostri casi. La distribuzione di Fréchet è l'esponenziale di Z meno B diviso A elevato alla meno alfa, dove questo meno alfa è un parametro ulteriore. Cioè la distribuzione di Fréchet è sempre una distribuzione esponenziale, all'esponente invece di avere un nuovo esponenziale abbiamo una legge di potenza e abbiamo un ulteriore coefficiente. Quindi i parametri qui sono tre, A, B ed alfa. Fortunatamente anche di questa distribuzione siamo in grado, almeno nella sua forma normale, come viene chiamata questa... come viene chiamata questa forma della distribuzione in cui ho messo E alla meno X al posto di prima dove era scritto Z meno B diviso A, ho messo X alla meno alfa. Anche di questa distribuzione siamo in grado di calcolare la media, la moda, la mediana e la varianza. Questa media moda, mediana e la varianza sono espresse, come vedete qui, in funzione della funzione gamma completa, che è la funzione che vi avevo descritto prima e avevo perso qualche tempo per descriverla proprio perché così io avevo anche enunciato il fatto che è una distribuzione estremamente importante e quindi la dobbiamo conoscere. Quindi la media è la funzione gamma di 1 meno 1 su alfa, per alfa maggiore di 1. La moda è sempre una funzione di questo parametro alfa, cioè il parametro alfa controlla sia la media che la moda della distribuzione di Fréchet. E anche la mediana, come vedete, che è 1 sul logaritmo in base naturale di 2 elevato alla 1 su alfa. Anche la varianza è controllata da alfa, però qui in realtà i parametri a e b in questo caso mancano. Io dovrei fare un cambiamento di variabili e vedere come variano a me da moda e varianza, in questo caso in funzione anche di a e b. Ma a partire da questi valori li possiamo calcolare, magari sarà un esercizio che vi faccio a mano e poi vi carico con le altre slide. L'importante non è ricordare cosa sono questi valori, ma sapere che ci sono su alcune tavole e poi riportarli. Avevamo una distribuzione illimitata con un dominio illimitato che è la distribuzione di Gumbel, abbiamo una distribuzione che è limitata inferiormente che è la distribuzione di Fréchet, abbiamo anche una distribuzione dei massimi che è la distribuzione di Weibull. Questa distribuzione è limitata superiormente e in particolare la sua distribuzione è G di Z e E elevato alla meno Z meno B diviso A e la parte con il segno meno alla meno alfa. Tre parametri anche a questa curva. Per valori superiori uguali a B questa distribuzione è uguale ad 1. Di questa distribuzione, come della distribuzione di Fréchet, siamo in grado di calcolare anche la funzione cumulata, cioè la Cumulative Distribution Function. Questa sarebbe la PDF, Probability Distribution Function. Questa è la densità di probabilità in italiano, mentre la probabilità è l'integrale di questa curva. Anche queste curve, come per il resto la distribuzione di Fréchet e la distribuzione di Gumbel, sono distribuzioni unimodali e le vedete disegnate qui in alto, la distribuzione in basso vedete la curva di probabilità. Oltre il valore B, la curva di probabilità diventa 1. Del resto la distribuzione di probabilità in questo caso è un'espressione piuttosto semplice che vediamo poi. Anche per la distribuzione di Weibull abbiamo delle forme analitiche. La media, sempre calcolata in funzione della distribuzione gamma, la moda in funzione del logaritmo, la mediana invece ha un'espressione più semplice. Qui, come vedete, la variabile alfa è stata sostituita dalla variabile k, ma nulla cambia. Quindi abbiamo tre distribuzioni. In linea di principio noi dovremo quindi fare tutte le operazioni su tutte le durate con la curva di Gumbel, poi andare a rianalizzare il problema, a vederlo con la curva di Fréchet, poi andarlo con la curva di Weibull e perché no con altre curve ancora. Ripetendo molte volte l'analisi. Questo ovviamente è un'operazione che consuma molto tempo e di solito non si fa mai. Ma in questo caso siamo anche fortunati nel senso che le tre distribuzioni dei valori estremi sono tutte riassunte in un'unica distribuzione che si chiama distribuzione dei valori estremi. Questa distribuzione dei valori estremi è una distribuzione che ha quattro parametri. è l'esponenziale di meno 1 più ξ, per chi non ha studiato greco il simbolo che vedete prima della parentesi tonde è ξ, z meno mu diviso sigma. Il tutto elevato, l'esponente, è elevato alla 1 meno ξ. Ci sono delle limitazioni sui valori di z, sui valori dei parametri, che vedete riportate sotto. L'importante è che per ξ uguale a 0, che è l'esponente qui andrebbe a meno infinito, quindi è una forma del genere della distribuzione, abbiamo la distribuzione di Gumbel. Per ξ maggiore di 0 abbiamo la distribuzione di Frashe, per ξ minore di 0 abbiamo la distribuzione di Weibull. Quindi se noi andiamo ad applicare i metodi che abbiamo utilizzato prima, la distribuzione direttamente alla distribuzione di Jav o alla distribuzione dei valori estremi, a seconda del valore di ξ sappiamo se i nostri dati sono distribuiti secondo una curva di Gumbel di Frashe o di Weibull. E quindi ci potremmo risparmiare il lavoro successivo, tutto il lavoro successivo. La distribuzione di probabilità della curva Gave è un po' più complicata, perché ovviamente questa è la distribuzione cumulata, che vedete rappresentata, e la derivata di questa fatta rispetto a Z è la densità di probabilità, che vedete rappresentata in basso, nella slide che è in basso nella slide, ed è funzione di tre parametri, mu, sigma e ξ. Un problema che potrebbe sorgere è dire, beh, ma se queste distribuzioni hanno tre parametri, noi abbiamo visto con la curva di Gumbel che, avendo due parametri, come applicare il metodo dei momenti, come applicare il metodo della massima verosimiglianza, o come applicare il metodo dei minimi inquadrati, ma in quel caso avevamo due parametri. Come facciamo per il terzo parametro? Beh, per il terzo parametro dovremmo considerare un terzo momento, per esempio. Oppure, per i metodi dei minimi inquadrati della massima verosimiglianza, dovremmo considerare il terzo parametro e quindi considerare due derivazioni, una derivazione successiva, il sistema non sarà più un sistema di due equazioni in due incognite, ma di tre equazioni in tre incognite. In entrambi i casi sarà un sistema non lineare che dovremmo risolvere. Anche i valori della media, della varianza e della moda della funzione gamma sono conosciuti in particolare in funzione di certe funzioni Gk che a loro volta sono funzioni della gamma completa. Anche in questo caso non è necessario ricordarsi le formule, esistono delle tavole sulle quali ci possiamo esercitare e rispetto alle quali possiamo fare riferimento. A questo punto non ho nulla da dire di più sulla distribuzione Jav e possiamo fare un'ulteriore pausa.